Allo stadio Carrano di Santa Maria di Castellabate tornava in scena dopo 16 anni di assenza il derby tra la Polisportiva Santa Maria e l'Agropoli Calcio, società ambiziose ed entrambe posizionate in piena zona play-off. Entrambe le formazioni vedono variare, in parte la loro rosa dopo l'apertura della finestra dicembrina di mercato che ha visto ingressi e uscite da ambo le parti. Il match valevole per la quindicesima giornata del girone B di eccellenza, l'ultima del girone d'andata, è stato giocato davanti a una bella cornice di pubblico. La prima mozione della gara arriva al quinto di gioco quando Dattilio, defilato, calcio in maniera insidiosa verso la porta di Spicuzza. Al quattordicesimo la risposta dei giallorossi. Dalla sinistra un cross sbilenco viene raccolto da Romano che di testa gira nel mezzo. La palla che viaggia pericolosa nell'area piccola viene allontanata dalla difesa ospite. Doppio occasione due minuti dopo per la polisportiva, ma Margiotta viene stoppato dalla retroguardia del Fina. Al diciannovesimo è Dattilio, dai 25 metri a calciare in maniera potente ma imprecisa sull'affondo. Al minuto 22 Capozzoli ci prova direttamente da punizione, Spicuzza controlla in presa sicura. Dopo un giro di lancette e caos nell'area agropolese, Kamanà e Giura pasticciano, ma Chirillo non riesce ad intervenire sul pallone che viene allontanato in extremis. L'Agropoli torna pericoloso su punizione, al 27esimo con Limatola, che costringe ancora all'intervento centrale l'estremo difensore dei locali. Al minuto 36 bella discesa di Chirillo, che in azione solitaria vede stoppata dall'altezza del rigore la sua abbattuta rete. Al 39esimo invece Fiorillo imbecca Margiotta, che angola in maniera eccessiva la sua spizzata aerea. Nella ripresa decisamente meglio l'Agropoli, che si riversa con vemenza nella metà campo avversaria. La prima emozione arriva, in una frazione più avara di occasioni, al minuto numero 62. Limatola dal lato sinistro controlla bene in aria, calciando in pratica a botta sicura. La risposta di Spicuzza però mantiene la parziale fermo sullo 0-0. Alla mezz'ora rigore per l'Agropoli. Trabel si sbraccia con Masocco, Guido Verrocchi di Sulmona concede un rigore, trasformato poi in maniera impeccabile da Natiello. Al 79esimo Graziani vede deviato in angolo la sua conclusione e sulla seguente corner russo non impatta bene la sfera. Negli ultimi dieci minuti la polisportiva tenta il forcing finale, senza riuscire però a trovare il pari. Nel finale Dattilio potrebbe addirittura fare il 2-0, ma Spicuzza gli nega la gioia. Finisce così 1-0 per l'Agropoli.